Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Gela si mobilita per accelerare tempi e procedure per l'istituzione della Breast Unit di Senologia all'ospedale Vittorio Emanuele. Entro il 2016 gli adempimenti, oppure salterà tutto. Ieri manifestazione dinanzi al presidio sanitario di Via Palazzi raccolte quasi 9.000 firme. La testimonianza di alcune donne operate al seno. Sentiamo. 7.400 firme certificate tramite il documento di riconoscimento e oltre 1.000 online. Il primo forum urbano promosso da Cantina e Gela per sostenere l'ADOS ha raggiunto lo suo primo obiettivo. Tutti insieme ieri dinanzi al presidio sanitario di Via Palazzi per chiedere l'apertura della Breast Unit. C'erano tutti. Le firme saranno consegnate al direttore dell'azienda provinciale di Caltanissetta e al presidente della regione. Se entro il mese di giugno non si avranno ancora notizie certe, proprio in merito all'apertura, le firme saranno consegnate direttamente nelle mani del ministro per la salute Beatrice Lorenzin. Si rischia di non poter più operare se a Gela non nasce la Breast Unit. Si rischia, se noi non ci mettiamo in regola entro il 2016, di non avere più la possibilità di operare le mammelle. Voi avete saputo che noi questa struttura l'abbiamo attiva da diversi anni. Noi abbiamo lavorato, io dico sempre, avendo dato delle prestazioni come se avessimo una Ferrari e abbiamo una 500. Noi vogliamo che ci diano la possibilità di avere tutto quello che è necessario per avere una struttura ben strutturata e queste informazioni che diamo alla città è importante perché la città deve sapere. Pensiamo che la Breast Unit come struttura deve nascere subito, come struttura di senologia complessa perché in verità da 14 anni esiste una realtà ospedaliera che produce ogni anno mari di interventi per patologie tumorali e comunque a livello siciliano è una delle prime 10 in termini di risultati. Qual è il primo approccio quando una donna si rivolge alla vostra associazione perché le è stato già diagnosticato un tumore al seno? L'approccio è stato che subito si scatena una tegola in testa a queste donne. Allora noi siamo pronti a testimoniare e dire non avete paura, noi siamo testimonial di questo. Io ho 15 anni che sono stata operata qui dal dottore Di Martino ed è nata l'associazione proprio per questo perché il dottore Di Martino venendo dall'Istituto Europeo cosa ha detto? Siccome là esiste un'associazione delle donne operate al seno che si trovano subito pronte nel letto operatorio e sostengono le donne prima, durante e dopo, anche le donne stesse si trovano e dicono beh ce l'hai fatta tu, ce la faccio pure io. E i medici stessi trovano la paziente molto rilassata e preparata ad andare in sala operatoria. Noi che abbiamo avuto comunque un tumore sappiamo qual è il percorso che ogni donna deve percorrere. Quindi siamo vicino e lo saremo finché Dio vorrà proprio a sostegno delle donne perché le donne a Gela soprattutto nel territorio limitrofo, non deve mancare nulla. Quando io ho scoperto di avere questo tumore e mi hanno detto che dovevo essere operata avevo deciso prima di operarmi qua ma poi ho pensato che l'unica cosa è andare fuori come si pensa sempre per noi siciliani. E' arrivata lì ho trovato una dottoressa, Leo, mi ha detto ma voi avete in Sicilia Gela, un professore bravissimo. Perché non si fa operare lì? E quindi io ero un pochino titubanda all'inizio, sai come dico ma sono venuta fino a Milano e mi dicono di scendere in Sicilia a Gela poi. La dottoressa mi ha detto per ben tre volte con una certa sicurezza proprio il signore è come se l'operassi io, c'è il mio collega il dottore Di Martino, l'opererà come se fossi io. E allora sono scesa qua, ho trovato un ambiente bellissimo, accogliente, oltre che persone brave, preparate, le volontarie sono veramente degli angeli, infatti oggi sono venuta con il grande piacere da Grigendo per essere presente a questa manifestazione. I sindaci del comprensorio fanno rete, no ai tagli sanitari, sentiamo. Anche i comuni fanno rete, devono fare rete. Ma qua si va oltre, Gela è un punto di riferimento per il territorio, ma poi ricordiamo che ci sono molti servizi che sono stati sempre annunciati e mai sono partiti, ricordo l'Utine, oltre alla Best Unit, ma ricordo che negli ultimi anni c'è stata effettivamente una riduzione di risorse costante, come fino all'ultimo piano dove vi è una mancanza di oltre 5 milioni di euro che a quanto pare li stanno facendo scondare solo alla zona sud della provincia di Caltanissetta. La salute dei nostri concittadini, la salute di un territorio è una cosa importantissima, soprattutto in un territorio come quello di Gela, Butela, Niscemi, dove di fatto l'industrializzazione ha creato dei problemi reali. Non si può far finta di nulla, non possono dei burocrati decidere di tagliare un bene così prezioso come il bene della salute solo su un foglio di carta. Il diritto alla salute è fondamentale, è un centro di senologia qui a Gela, è necessario, molto necessario per ovvi motivi, per la presenza dello stabilimento, dove tanti gelesi ma anche tanti riesini che alla mia città hanno lavorato e quindi problematiche che possono essere sempre, possono essere dietro la porta. Qua si parla di soldi dimenticati ad inserire nei bilanci, si parla di proposte bocciate naturalmente dalla conferenza dei sindaci, si parla di richieste sempre in evase, si parla di programmi che puntualmente non vengono rispettati. Se io oggi sono qua, sicuramente la colpa non è dei miei colleghi, dei cittadini che stanno protestando, ma qualcuno ha una colpa ben definita e questa va ricercata. Non è concepibile che ancora ci siano migrazioni di pazienti che vanno fuori anche per queste cose così importanti. Lo devo per cui oggi partecipare è voler dire al governo regionale che le cose fondamentali vanno mantenute. Questi non sono dei territori di serie B, ma sono dei territori uguali agli altri, dei territori che hanno stessa dignità degli altri. È giusto che i comuni in rete rivendicano il diritto sacrosanto di avere la Breste Unit qui a Gela e questo intervento deve essere fatto entro il 2016. Se no non c'è nulla da fare, quindi rivendichiamo con forza. C'è la forte partecipazione dei cittadini che stanno sottoscrivendo l'appello fatto dei cittadini liberi. La politica, i sindaci sono tutti qui attorno a questo diritto sacrosanto. Ieri all'iniziativa erano presenti tra gli altri il general manager dell'ASP 2 di Caltanissette, il presidente del Consiglio Comunale di Gela e il deputato regionale del Partito Democratico, Giuseppe Arancio. Sentiamo. La sua presenza oggi qui, dottore Iacono, è significativa. Questa non è senz'altro una giornata di protesta fine a se stessa, ma è la richiesta, la giusta richiesta di un intero territorio. Sì, guardi, il problema della Brest Unit, e voglio essere molto chiaro ed esplicito, la Brest Unit è prevista nell'atto aziendale ed è passata da struttura semplice a struttura complessa. C'era questa richiesta del territorio ed è una richiesta che noi abbiamo assecondato inserendo questo progetto nell'atto aziendale. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di dire, per poter attivare tutte le unità operative è necessario un finanziamento e il finanziamento rientra nel tetto di spesa complessivo dell'azienda. E a questo proposito c'è da dire che c'è un impegno specifico da parte dell'assessore regionale alla sanità. Attenzione, non è un impegno che ha assunto con il direttore generale, l'ha assunto con la conferenza dei sindaci dicendo che appena saranno esaurite la presentazione di tutte le piante organiche della regione Sicilia, e ancora non sono complete le piante organiche, ci sarà una integrazione di quello che è il tetto di spesa, quindi ci consentirà di poter fare tutto. Se non arriveranno i soldi, questi rimarranno soltanto dei sogni iscritti. Sarà così anche questa volta? Aprirà le braccia anche questa volta? Questo se non arriveranno i soldi, ovviamente è un dato di fatto, ma io sono certo, certo, per quanto posso essere certo, se un assessore prende un impegno con i sindaci, non col direttore generale, io penso che l'assessore manterrà l'impegno. Quindi sotto questo punto di vista non sono certo, ma mi sento molto rassicurato. Un appello anche al nostro Presidente della regione, affinché non ci abbandoni, faccio in modo che questa best unit vada in porto, e che noi abbiamo questa unità multidisciplinare che abbiamo bisogno, anche perché già oggi molte donne del comprensorio si rivolgono a Gela e al dottore Di Martino. Quindi diciamo che è giusto che questo obiettivo venga raggiunto. La breast unity a Gela è necessaria, è l'unica speranza di salvezza per le donne che si ammalano di tumore al seno in un comprensorio. Non vogliamo che ci sia un disallineamento tra il finanziamento e il tempo massimo entro cui realizzarla. Quindi siamo qui tutto il Partito Democratico per apporre la firma, ma questo non basta perché poi dobbiamo chiedere un incontro con il Presidente della regione, l'assessore, per accelerare le procedure che faranno finanziare la struttura. Perché abbiamo i tempi contingentati. Entro il 2016 la struttura deve essere consegnata al territorio. È un'opportunità, è inserita nella rete ospedaliera siciliana e noi non vogliamo perderla. Gli ultimi direttori generali dell'ASP CL2 hanno sempre pensato e investito nelle strutture ospedaliere che si trovano a nord dell'ex provincia penalizzando l'area gelese. Oggi si scopre che far partire l'Uti nella Brest Unit a Gela per far partire occorrono 5 milioni di euro che l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi ha dato in meno all'ASP CL2 rispetto al finanziamento precedente. Ma è mai possibile che quando tocca investire nelle strutture gelesi mancano sempre i soldi? È una costante della storia gelese, però in questo caso occorre fare ulteriore chiarezza. E' quanto afferma in una nota il coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone. L'assessore Gucciardi spiega a Franzone, in sede di attribuzione delle risorse economiche destinate a ciascuna ASP in Sicilia, stabilì per l'ASP CL2 un tetto di spesa di 138 milioni di euro, quasi 5 milioni di euro e meno rispetto alla somma utilizzata negli anni precedenti. di questi soldi ha a disposizione Carmelo Iacon, è possibile che non si sono trovate le somme dell'utin per la breast unit, attendiamo ancora strutture individuate da oltre 6 anni in tutto questo, c'è sempre chi vuole guadagnarci pure, approfittando delle iniziative gelesi, conclude Filippo Franzone. Adesso parliamo dell'incontro promosso a Gela per ricompattare il centro-destra, sentiamo. Il centro-destra Gela si combatta a prove di dialogo intense, sabato scorso, nella sede di Forza Italia, una vera e propria riorganizzazione al fine di costruire un progetto di rilancio della città. L'incontro è stato promosso dal deputato regionale Pino Federico, commissario cittadino di Forza Italia. Il centro-destra sta iniziando, si ricombatta, ma sta iniziando un percorso, un percorso che ci deve portare a creare un'alternativa politica per questa città, per questo territorio, perché purtroppo oggi c'è stata da vent'anni e c'è solo una monoproposta, ultimamente è arrivata la proposta di Grelline che sappiamo come è andata a finire, c'è una religiosità e non governano, per cui noi insieme cerchiamo di creare una proposta finalmente di rilancio anche amministrativo di questo territorio. Erano presenti la segretario cittadino di Noi Consalvini, Antonio Giudice, Bruno Antonuzzo del Partito Socialista, Ghetano Minardi di Fratelli d'Italia e Grazio Trufolo del Partito Liberale. Si potrebbe, Antonio Giudice, estaurare anche un rapporto di collaborazione con il Movimento 5 Stelle? Ma ovviamente chi sposa la nostra proposta politica e il nostro progetto è il benvenuto. Noi abbiamo iniziato questo percorso di unione fra tutti quelli del centro-destra circa un anno fa, questo percorso non si è interrotto, lo stiamo portando avanti. Noi avevamo un progetto, il progetto era quello prima di ritrovare e rilanciare la destra, ma era propedeutica al discorso di rilanciare poi il centro-destra. Mi pare che a piccoli passi e a brevi tappe stiamo riuscendo a ricompattare quello che per me è l'alternativa naturale a questo disastro che la sinistra oramai da troppo tempo regala. Poi i grillini hanno dato, noi grillini chiedo scusa, il sindaco Messinese e Compari hanno dato il colpo di grazia. Questa amministrazione non la capisco, non la vedo, non la sento, quindi praticamente è un'amministrazione ferma. Noi siamo nel centro-destra, culturalmente siamo nel centro-destra. Noi riteniamo che comunque con leggere differenze siamo obbligati a stare assieme perché il danno prodotto da PD prima negli ultimi vent'anni. Dai grillini adesso, in un anno di amministrazione, abbiamo capito che praticamente amministrare per loro è una cosa complicata e quindi siamo obbligati a stare assieme. La prima tappa fondamentale è quella di stabilire regole chiare e soprattutto un programma talmente tanto ambizioso da portare Gela a quel ruolo nel Mediterraneo, quindi non solo in Italia, che le competa. Nei prossimi giorni le segretarie dei partiti daranno degli incontri con tutti i movimenti che fanno riferimento al centro-destra locale al fine di dare al territorio e alla città una alternativa politica seria, valida ed efficiente. E l'NCD non fa parte del gruppo? No, l'NCD anche perché a livello nazionale governa con il centro-sinistra, a livello regionale dà appoggio al governo del centro-sinistra per cui penso che oggi non ci sono le condizioni per stare con noi. Un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Gela ieri si era prodigato per liberare dalla sabbia gli scivoli d'ingresso dal lato est del lungomare e un tratto della pedana che si estende fino all'Ido Sport Center rimuovendo una quantità enorme di sabbia. A tal proposito i consiglieri comunali Grillini, Vincenzo Giudice, Angela Mato, Virginia Farruge e Simone Morgana hanno presentato una interrogazione al sindaco Domenico Messinese evidenziando lo stato in cui verse il lungomare e che provveda subito alla manutenzione ordinaria del nuovo tratto. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il colonnello Mario Mettifogo, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Le repliche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi del convegno organizzato da Sotir a Gela. Vediamo. Da Gela, il polo industriale più sud dell'Europa, Transfrigoriut Italia, Sotir, l'associazione italiana Imprese di Trasporto, ha lanciato l'ultima chiamata all'Italia e all'Europa. Contro la crisi dei mercati e la concorrenza internazionale, la Sicilia sia hub del Mediterraneo. Una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, crocevia dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e alle economie emergenti. Sono i temi che sono stati affrontati nei locali dell'hotel Peretti in occasione del convegno nazionale. Il sottosegretario di Trasporti, Simona Vicari. Il tavolo dell'autotrasporto è stato riconvocato per giorno 1. Sarà un momento di confronto quasi definitivo perché il governo sta puntando moltissimo sulle intermodalità, sullo sviluppo delle nostre infrastrutture, sui sistemi portuali. Abbiamo incentivi che riguardano lo spostamento delle merci dalla gomma al mare, che sono destinati per circa il 70% tutti i latotrasportatori. Incentivi per chi sposta dalla gomma al ferro e quindi alle ferrovie, a chi investe in mezzi assolutamente più ecologici, chi investe in informazione. La Sicilia, in tutto il mondo, anche in Italia, è vista come una grande occasione. La Sicilia è un abbo nel Mediterraneo assolutamente naturale. Siamo a Gela, non a caso, per dare un significato importante anche di consapevolezza a questo territorio. Credo che la politica regionale sia stata abbastanza sorda e abbia trascurato invece tutta una serie di attività legate alle infrastrutture. Costo del lavoro, concorrenza estera e carenze di infrastrutture. Ne ha parlato il segretario nazionale della SOTIR Claudio Donati. Io credo che questo settore ha bisogno di regole che in parte ci sono, in parte vanno riscritte, ma anche per le regole che ci sono poi occorre che vengano fatte rispettare, non solo per i trasportatori, ma anche per chi con i trasportatori lavora, intendo la committenza. Quindi ci aspettiamo che il Governo, lo Stato, non rimanga sostanzialmente inerte, come molto spesso succede, ma faccia un po' una scelta di campo, nel senso di assicurare che le regole che vengono richieste a tutti, a partire dai trasportatori, vengano richieste, il rispetto delle regole venga assicurato, anche da chi dà il lavoro agli autotrasportatori, che spesso viene contrattato e definito a condizioni francamente oltre la legalità. Domenica 26 giugno prossimo, nella prestigiosa sede di Palazzo Cosentini a Ragusa, Ibla, sarà consegnato al sociologo Francesco Pira il Premio Internazionale Barocco 2016 come riconoscimento per l'impegno profuso nella ricerca scientifica nell'ambito della sociologia, della comunicazione. A comunicarla al professore Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina, il presidente regionale dell'Accademia Internazionale Città di Roma, che organizza l'evento, maestra d'arte e pittrice Maria Ventura. Sono grato per questo riconoscimento, ha detto Francesco Pira, di cui sono davvero onorato e che dedica a tutte le persone che hanno sempre creduto in me, che mi vogliono bene, alle colleghe e colleghi e soprattutto alle mie studentesse, ai miei studenti, quelle di oggi e di ieri che mi hanno dato e mi danno ogni giorno l'energia per continuare nella mia attività di docenza e di ricerca. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze per richiedere l'assegno civico, gli uffici comunali di Gela hanno riscontrato in esattezze nella documentazione di alcuni soggetti. In particolare sono state consegnate dichiarazioni sostitutive uniche o ISEE scaduti. Il settore servizi sociali ribadisce che per poter concorrere al beneficio dell'assegno civico va depositato esclusivamente l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità. Soltanto per i cittadini interessati, l'assessore comunale Licia Abela comunica che si potrà integrare l'ISEE valido in modo che si possa rimediare a quest'errore. La proroga è stata fissata fino a domani, 31 maggio. Adesso vi proponiamo un'intervista al direttore marittimo della Sicilia Occidentale, Gaetano Martinez. L'ufficiale parla di ambiente e di emergenza sbarchi. Sentiamo. Comandante, la zona che lei dirige è una zona estremamente interessante da un punto di vista portuale. Quali sono state nella sua carriera a comando di questa zona, le questioni risolte, quelle da risolvere più interessanti? Diciamo che la direzione marittima di Palermo, che abbraccia un territorio molto vasto, che va da Gela fino a Cefalù, presenta delle peculiarità diverse a seconda delle zone. Indubbiamente le portualità particolari e articolate si configurano soprattutto su Palermo, Trapani, Gela e Porta Empedocle. Gli altri sono porti, diciamo così, fra virgolette minori, che hanno delle importanze per quanto riguarda lo sviluppo turistico dati porto, ma nella complessità, diciamo, grazie all'opera dei vari comandanti e dalla regia messa in essere della direzione marittima, il nostro programma, che abbraccia tutto il territorio, ci può condurre verso soluzioni di problemi, che sono quelli soprattutto del miglioramento infrastrutturale dei vari porti. Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo fatto un documento programmatico, che analizza tutte queste problematiche, ma che abbraccia anche settori diversi da quello che è l'aspetto solo, diciamo così, infrastrutturale portuale. I nostri compiti sono diversi, quindi ci lanciamo verso forme di tutela dell'ambiente, la pesca, tutto il settore amministrativo per quanto riguarda la gestione del centro di mare. E poi siamo in una terra dove il problema dei migranti è importantissimo. Quale idea si è fatto per poter quantomeno arginare, se non risolvere il problema degli sbarchi, per farlo in sicurezza? I nostri equipaggi hanno una capacità tecnica di intervento e di professionalità elevatissima. I nostri mezzi sono disponibili perché è un nostro dovere a 24 ore su 24 ore. E quindi, fin quando noi altri siamo chiamati a salvare queste persone, siamo sempre sul pezzo. E faremo questo lavoro, come dicevo io, con tanta professionalità, ma soprattutto con grande cuore. Pubblicato il primo concorso finestre e balconi fioriti, aperto a tutti coloro che nel centro abitato del comune di Gela abbiano la disponibilità di una finestra, un balcone, un terrazzo, una vetrina o particolari abitativi visibili all'esterno, la giunta comunale, su proposta dell'assessore Francesco Salinitro, ha approvato bando e regolamento, entrambi scaricabili dal sito ufficiale del comune alla sezione delibere e determine. Le istanze vanno presentate tra l'1 giugno e il 31 luglio prossimi e all'istanza vanno allegate tre fotografie. Ai primi tre classificati verranno riconosciuti premi in denaro, un premio speciale anche per il miglior terrazzo balcone o vetrina di via Venezia. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al settore sport, turismo e cultura. Grandiosa prestazione del giovane gelese Samuele Licata ai giochi delle isole, che si sono svolti a Palma de Mallorca con la maglia della rappresentativa siciliana. Samuele ha vinto due medaglie d'oro e in bronzo nella staffetta a livello individuale, ha primeggiato nei 1500 metri e 2000 siepi, dominando dall'inizio alla fine con il minimo per i campionati europei. Un grande risultato per un giovane atleta che si allena per strada, grazie alla volontà, spirito di sacrificio e lavoro del suo tecnico Massimo Bianca. Con questa notizia di sport è tutto anche per oggi, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti potrete trovarli sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che Canale 10 è dotato anche di un altro strumento che è il televideo, sempre aggiornato con l'informazione del momento. È tutto, arrivederci, buon inizio settimana a tutti. Grazie a tutti.